Buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato alla nostra presentazione, conferenza stampa qua sulla fruitlogistica di Berlino. Sono fiero di poter rappresentare la nostra azienda per il futuro, un'azienda che nel passato è stato un forte partner per un prodotto di buona qualità, di essere prodotto ad alti livelli qualitativi, abbiamo biologico, abbiamo una lotta integrata molto avanzata, anche per il futuro su queste leve punteremo, abbiamo un'asse strategica anche sulla continua innovazione varietale e abbiamo anche per il futuro puntiamo su un servizio di fornitura di tecnologia ad altissimo livello che ci garantisce di essere un partner trasparente, tranquillo e costante nel tempo e ci permette di essere al servizio ai nostri clienti in modo positivo anche per il futuro. Grazie a tutti, buona fiera e buon futuro insieme. Grazie.